Oggi abbiamo sentito il MEF al lavoro sul nesilino di legge per aumentare la competitività dei mercati finanziari, abbiamo visto i suggerimenti di Aux e dell'Unione Europea, la posizione di Boros su questi miglioramenti qual è? Allora aggiungo anche la legge delega sulla fiscalità che ieri è stata annunciata in un panel su cui c'era anch'io dal Vice Ministro Leo. Devo dire che questa amministrazione sta ascoltando le richieste degli stakeholders, sono andati a riprendersi il libro verde e stanno mettendo a terra quelle che sono state le raccomandazioni che hanno trovato un largo consenso. Lato nostro, quando possibile, abbiamo già fatto degli interventi sui regolamenti proprio per snellire il processo di quotazione in borsa, stessa cosa che ha fatto la Consob, a mio avviso il messaggio che ha dato il Vice Ministro Freni, ovvero che bisogna essere positivi, guardare avanti, anche se non si ha tutto subito, però essere consapevoli che ci saranno degli interventi ripetuti anche nel futuro, a questo punto io direi di dare un messaggio forte agli imprenditori, agli investitori che l'Italia è il paese su cui investire e venire a quotarsi. Intanto cambia anche l'industria finanziaria, emergono alcune borse in Europa, alcuni grandi gruppi di cui voi fate parte e quindi più aziende magari cambiano non solo sede ma anche sede di quotazione. Questo fenomeno voi come potete intervenire o cosa osservate? Il fenomeno del dual listing è un fenomeno che non riguarda solo l'Europa, che non riguarda solo l'Italia. Diciamo che c'è un ecosistema che vede le piccole entrare, consolidarsi, uscire per via di interventi di private equity che rendono il mercato molto energetico e danno quindi la possibilità agli investitori anche di fare degli investimenti oculati. Da un punto di vista di Euronext, adesso siamo a una settimana di distanza in cui siamo passati come mercati borsa sulla piattaforma Optic, vediamo una grossa opportunità per i prodotti quotati italiani a raggiungere un network di più di 2000 investitori che ovviamente non hanno più bisogno di andare sul singolo paese e connettersi separatamente, ma possono avere accesso. Perfetto, grazie.